Abbiamo visto che per ottenere la circolazione di una corrente in un circuito elettrico è necessario fornire energia alle cariche elettriche presenti. Quindi se noi vogliamo una corrente I è necessario fornire energia alle cariche quindi in generale se parliamo di una corrente in un conduttore, in un solido si tratterà di elettroni, è energia alle cariche sotto forma di energia potenziale significa tensione V. Per ottenere questo sappiamo che è necessario l'uso di un generatore. un generatore, supponiamolo, di tensione. Quindi corrente significa dare tensione e quindi energia alle cariche in un circuito e le cariche produrranno la corrente. Per esperienza si vede che non sempre la stessa energia, quindi la stessa tensione, è in grado di produrre la stessa corrente. quindi troviamo che sperimentalmente si scopre che a parità di corrente ad esempio noi abbiamo che consideriamo il caso di materiale di tipo metallico e materiale invece di tipo isolante, quindi isolanti. Da questo scopriamo facilmente che per i metalli è necessaria a parità di corrente in generale una bassa energia paragonata a quella che serve per gli isolanti. Quindi bassa energia o alta energia significa che la parità di corrente, una bassa tensione, è in grado di produrre correnti nei metalli per ottenere le quali negli isolanti la tensione che dobbiamo applicare può essere alta o addirittura altissima anche per ottenere correnti molto limitate. A questo punto non possiamo continuare a esprimerci così in termini generici di alto e basso ma dobbiamo definire una grandezza che caratterizzi appunto la propensione dei materiali a condurre o meno l'energia elettrica, quindi la corrente elettrica. La grandezza di interesse è la resistenza R. Quindi la resistenza elettrica che noi identifichiamo con la lettera R quantifica appunto la proporzione dei materiali a opporsi al movimento delle cariche elettriche appunto andando a misurare il rapporto fra la tensione che applichiamo e la corrente che otteniamo nel circuito per i vari tipi di materiali. da questa definizione generale intanto possiamo vedere che l'unità di misura della resistenza elettrica sarà volt su ampere alla quale è stato dato il nome di ohm e il simbolo ohm della lettera greca omega maiuscolo, quindi questa è la definizione di resistenza elettrica. quindi riallacciandoci al discorso generale qualitativo fatto precedentemente avremo che in generali i metalli presenteranno bassi valori di R, quindi bassi valori di resistenza elettrica e gli isolanti alti valori di resistenza elettrica. allo stesso modo o inversamente viene definita un'altra grandezza che è l'opposto della resistenza elettrica. quest'altra grandezza la indichiamo con la lettera G, l'inverso, espressa come l'inverso della resistenza e quindi indica la propensione del materiale a farsi attraversare dalla corrente elettrica. l'unità di misura di G risulta ovviamente ampere su volt, quindi l'inverso di ohm, al quale si dà il simbolo S maiuscolo e il nome Siemens. questa grandezza prende il nome di conduttanza elettrica e vedremo che sarà comodo averla definita e utilizzarla in particolari configurazioni circuitali. dopo aver definito in forma generale la resistenza elettrica e la conduttanza elettrica vediamo come possiamo caratterizzare i singoli materiali dal punto di vista di queste grandezze quindi dobbiamo trovare un modo per effettuare delle misure elettriche sui materiali per poterle poi ulteriormente paragonare tra di loro dal punto di vista della resistenza o della conduttanza. utilizziamo un modello circuitale che ci consente di capire il tipo di esperimento che possiamo effettuare consideriamo un tratto di conduttore cilindrico del materiale di nostro interesse e chiudiamolo in un circuito in cui andiamo a porre un generatore di tensione V che appunto stabilisce quella tensione e quindi fornisce quella energia alle cariche elettriche presenti nel circuito stesso e in particolare nel campione di materiale che stiamo analizzando. il nostro materiale sia caratterizzato di forma cilindrica abbiamo detto sia caratterizzato da una certa sezione S che esprimiamo in millimetri quadri nei casi pratici e il nostro cilindro di materiale abbia una certa lunghezza L ovviamente misurata in metri. Sperimentalmente abbiamo detto che in queste condizioni nel circuito circolerà una corrente I quindi la cui intensità dipenderà direttamente dal valore della resistenza del campione di materiale che stiamo utilizzando e sappiamo dalla definizione precedente che appunto la resistenza del campione di materiale sarà data dal rapporto fra la tensione applicata, quella del generatore e la corrente circolante nel circuito. Questa può essere espressa tenendo conto delle caratteristiche geometriche del mezzo e risulta sperimentalmente che la resistenza è proporzionale alla lunghezza del campione e inversamente proporzionale alla sezione del cilindro campione quindi aumentando la lunghezza del materiale aumenterà la resistenza dello stesso se invece aumentiamo la sezione la resistenza diminuirà in proporzione inversa questa relazione di proporzionalità e di inversa sono legate da un coefficiente di proporzionalità che viene indicato con la lettera greca Rho quindi potremo esprimere la nostra resistenza come data dal prodotto di Rho la costante di proporzionalità di cui stiamo parlando per la lunghezza del campione diviso la sezione dello stesso dove Rho prende il nome di resistività e del materiale quindi ogni materiale diverso avrà un valore diverso di resistività che verrà determinato esperimentalmente se andiamo a vedere l'unità di misura della resistività vediamo che sarà data da Ohm per l'unità di misura della sezione che abbiamo detto nei casi pratici la definiamo in millimetri quadri diviso l'unità di misura della lunghezza quindi metri, quindi la resistività sarà espressa in Ohm per millimetro quadro su metro Allo stesso modo come prima abbiamo definito la conduttanza abbiamo che possiamo ripetere la definizione che abbiamo utilizzato prima quindi la conduttanza G che sarà 1 fratto R sarà quindi l'inverso della resistenza sarà data da 1 fratto Rho per S fratto L dove alla costante di proporzionalità 1 fratto Rho viene dato il simbolo gamma lettera greca per S fratto L dove gamma è la conducibilità del materiale ovviamente ovviamente in questo caso l'unità di misura di gamma sarà uguale Ohm alla meno 1 quindi Siemens per metro diviso millimetri quadri una particolarità sperimentale che viene messo in evidenza questa è che purtroppo purtroppo perché poi dal punto di vista dell'utilizzo pratico di queste grandezze è una complicazione che si presenterà di volta in volta negli studi è che la resistività del materiale non è una costante ma dipende dalla temperatura quindi dipende dalla temperatura del materiale quindi indichiamo che Rho ha una dipendenza dalla temperatura cosa che diciamo rende più problematica ancora questa dipendenza è che la dipendenza non è di tipo lineare quindi non c'è una proporzionalità fra temperatura e resistività ma in genere la gran parte dei materiali soprattutto dei conduttori quelli che ci interesseranno dal punto di vista pratico presenta un andamento della resistività Rho al variare della temperatura T possiamo pensarla espressa in Kelvin in modo tale che qua siamo solo 0 Kelvin è di questo tipo è crescente in modo non lineare non tutti i materiali presentano una resistività crescente con la temperatura ma ci sono anche materiali che presentano una resistività decrescente nei casi pratici questa non linearità viene linearizzata per renderla più facilmente gestibile come si procede alla linearizzazione si considera un tratto non particolarmente esteso della curva cioè per variazioni di temperatura non troppo ampie e questo tratto di curva viene linearizzato appunto come se si trattasse di un tratto inclinato di un segmento inclinato in questi casi la resistività appunto semplificando il suo comportamento con la temperatura come se fosse lineare risulta essere proporzionale con la variazione di temperatura si procede a determinare il valore della resistività per una particolare temperatura di riferimento che può essere ad esempio 0 gradi o più spesso 20 gradi si determina la resistività alla quale viene dato un simbolo ad esempio Rho 20 significa resistività a 20 gradi centigradi centigradi a questo punto la resistività Rho a un'altra temperatura T detto non troppo discosta dalla temperatura di riferimento la resistività Rho alla temperatura T sarà proporzionale a quella a 20 gradi secondo un coefficiente di proporzionalità alfa 20 che appunto è il coefficiente di proporzionalità con la temperatura per la variazione di temperatura fra quella alla quale vogliamo determinare la resistività rispetto i 20 gradi alla quale è stata misurata Rho 20 allo stesso modo noi possiamo determinare la resistenza di un certo campione di un certo componente componente alla temperatura T se conosciamo la resistenza a 20 gradi per la linearizzazione che abbiamo fatto avrà una una dipendenza di questo tipo analoga a quella della resistività